Il 2015 si è chiuso per Lucca con una lieve risalita della natalità imprenditoriale. Aumenta il numero delle imprese che aprono i battenti sul territorio, un dato che lascia intravedere i primi tenui segnali di ripresa dell'economia provinciale, anche se permangono preoccupazioni per il comparto artigiano e per l'aumento delle imprese con procedure in corso. Sono i dati che emergono dal rapporto della Camera di Commercio. A fine 2015 le sedi di imprese registrate in provincia di Lucca sono risultate 43.294. Dopo quattro anni di trend negativo è quindi finalmente maggiore il numero delle imprese che aprono rispetto a quelle che chiudono. Dall'esame dei dati emerge che la riduzione delle imprese attive ha interessato particolarmente il settore delle costruzioni, secondo settore economico della provincia, con 6.697 imprese attive e che ha perso 202 unità nell'anno. All'interno del comparto industriale il numero di imprese manifatturiere è diminuito dell'1%. È tornata invece in positivo l'agricoltura con un incremento del 2,2%. Il comparto dei servizi, cresciuto complessivamente di 41 unità, evidenzia andamenti eterogenei. Il commercio, che racchiude il più elevato numero di imprese attive a livello provinciale, ha fatto registrare una flessione limitata a 19 unità. Le attività di alloggio e ristorazione, con 3.443 imprese attive, hanno evidenziato un lieve aumento, mentre per le attività immobiliari si è registrata una diminuzione. Positivo invece è l'andamento delle altre attività di servizi, in aumento di 18 unità, mentre le attività di noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese sono salite a quota 1.324. In contrazione, le attività professionali, scientifiche e tecniche che perdono 17 imprese, le attività di trasporto e magazzinaggio e quelle operanti nei servizi di informazione e comunicazione. Crescono a quota 906 le imprese che svolgono attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, mentre per le attività finanziarie assicurative l'andamento risulta stabile. È proseguito anche nel 2015 il periodo di criticità che l'artigianato lucchese attraversa ormai fino dal 2008. Il trend negativo sembra non essersi ancora arrestato e a fine 2015 la presenza artigiana in provincia è scesa a 11.908 imprese attive.